Amici della Formula 1 e soprattutto amiche della Formula 1, non era il fuoco fatto giovedì quello fatto vedere dalla Ferrari, visto che oggi dopo due anni torna in pole position col padrone di casa Charles Leclerc. Verrebbe da dire pole di Charles Leclerc visto che nel secondo tentativo del Q3 il ferrarista è saltato sulla banana alle piscine ed è finito contro il muro come accaduto nelle libere della mattina a Latifi, mandando all'aria i piani di rimonta e di tentare di togliergli la pole di Verstappen e Bottas che stavano spingendo al massimo e avrebbero potuto battere la pole del ferrarista. Ma quindi grande gioia per Maranello, Cavallino e tutti i ragazzi del team su una pista dove il motore non è importante, è importante la trazione, evitare il sottosterzo. E alla fine la Ferrari ha piazzato in pole, come detto da Messico 2019, la vettura numero 16. Carlo Sainz chiude quarto quando ha dimostrato comunque lo spagnolo di aver potuto in fieri poter accompagnare il compagno di squadra in prima fila, dove invece ci sarà Max Verstappen. L'olandese volante ha spinto però è sempre rimasto negli scarichi del Monegasco e alla fine per pochi centesimi, anche se 23 i decimi pagati dal pilota Red Bull lo hanno staccato dal pilota della Ferrari. Telso Valtteri Bottas, una Mercedes in difficoltà a Monte Carlo ma soprattutto quella di Lewis Hamilton che non è riuscita a trovare la quadra sia giovedì che oggi. E dalla fine ha chiuso addirittura settimo, lontanissimo dai primi e quindi domani una gara difficile per lui, specialista sì in rimonte. Ma a Monte Carlo sappiamo che le rimonte sono abbastanza difficili, le avevamo viste in passato, ma negli ultimi anni abbiamo assistito a processioni Mariani, a poco cambio e una gara che veniva decisa il sabato in qualifica e così sperano a Maranello inferrare i tifosi, che così sia anche la gara di domani con un Leclerc che partirà in pole, che cercherà di mantenere la prima posizione dagli arrembanti piloti che avrà dietro, ma sappiamo che l'attuale monoposto di Formula 1, mai così lunghe, mai così ingombranti, danno poco spazio a sorpassi nel corso di una gara che si annuncia comunque combattuta, detto quindi di un Sainz che avrebbe consentito una doppietta in prima fila alla Ferrari che torna in pole su un circuito atipico e tra l'altro il prossimo appuntamento sarà su un altro tracciato cittadino, ovvero sia quello di Baku, vede la McLaren con la livrea gulf piazzare Lando Norris in quinta posizione, Pierre Gasly con l'Alfa Tauri gran sesta posizione, come detto settimo Lewis Hamilton, ottavo un altro vecchio manico Sebastian Vettel che comincia ad adattarsi alla sua Aston Martin, e chiude questa qualifica all'ottavo posto, precedendo un Sergio Perez in difficoltà, rispetto al compagno di squadra il messicano della Red Bull fatica a trovare un tempo decente, alla fine chiude penultimo nei dieci, dove decimo troviamo bravissimo il nostro Antonio Giovinazzi che porta l'Alfa Romeo in Q3, porta il Biscione nella top ten, batte il compagno di squadra, un altro buon manico in difficoltà invece il finlandese che chiude quattordicesimo, così come Fernando Alonso addirittura fuori in Q1 diciassettesimo con l'Alpine. L'incidente di Leclerc a pochi istanti dalla fine delle qualifiche sta facendo storcere il naso a molti, ricordando quanto avvenuto tanti anni or sono con Schumacher alla Rascasse, ma questo è un episodio assolutamente diverso, credo, velocissimo, sempre a accarezzare il Garrail alla curva della piscina, qui come Latifi ma come altri è andato un po' oltre, ha sbattuto, ha rotto il braccio della sospensione anteriore destra, è saltato sulla banana e ha concluso contro le barriere con la parte destra della sua Ferrari numero sedici, ma sulla ruota di Monte Carlo è uscito il rosso numero sedici per la gioia di tutti i ferraristi che dopo tanto tempo vedranno quindi una Ferrari finalmente in pole position, una Ferrari davanti a tutti e chissà perché no pensare ad una vittoria su una pista che ha visto tra l'altro oggi in mattinata l'incidente in chiusura di Libere 3 come giovedì in chiusura di Libere 2 di Mick Schumacher che ha distrutto la sua AS e che non ha preso parte alla qualifica che come detto ha consegnato la pole position alla Ferrari numero sedici di Charles Leclerc, un Verstappen comunque bellicoso, domani in partenza di fianco a lui un Valtteri Bottas che dopo il cambio di setup all'anteriore tra Libere e Qualifiche è stato l'unico in casa Mercedes a averne beneficio, a piazzarsi in terza posizione e quindi a domani cercare di tenere alto il morale della Mercedes che può avere sì una pausa diciamo così di riflessione su una pista particolare come quella del Principato che oggi ma durante tutto il fine settimana ha esaltato la Ferrari che spera quindi domani nel Gran Premio di Monte Carlo di chiudere in bellezza.